pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati in questa ventottesima domenica incontriamo il testo significativo della parabola degli invitati al banchetto gesù ci sta continuando a parlare del regno dei cieli e abbiamo questa parabola che narra di un re che organizzò una festa di nozze per il figlio mandò a chiamare gli invitati ma essi rifiutarono in forza delle loro attività e impegni da portare avanti quindi il re non si rassegna manda i suoi servi a invitare tutti quelli che incontrano lungo le strade qui abbiamo figura di dio che in gesù chiama le nozze con sé il popolo di israele anzitutto che rifiuta quindi il re che invita tutti tutti i popoli alla comunione col figlio quindi prefigura la nascita della chiesa infine però tra tutti coloro che accettano abbiamo qualcuno senza l'abito nuziale che non accoglie quest'ulteriore dono e la famosa e forte frase conclusiva molti sono i chiamati ma pochi gli eletti che ci ricorda come dio chiami tutti ma non tutti corrispondano a questo invito ecco entriamo ora più puntualmente ed esistenzialmente nel testo ecco anzitutto abbiamo l'immagine del banchetto del re per le nozze del figlio banchetto e nozze immagini meravigliose per esprimere il rapporto che dio vuol vivere con ognuno di noi il banchetto immediatamente ci parla di gioia di alimento di vita di comunione festosa se andiamo a recuperare l'immagine profetica del banchetto messianico andiamo ancora oltre in isaia 25 8 dio fece una promessa di vita promettendo che alla fine dei tempi avrebbe inghiottito la morte eliminandola per sempre è chiaro ciò avverrà alla fine dei tempi ma gesù già il signore ha vinto la morte e ci propone di vincerla nella comunione con lui ed è ciò che anche si realizza sacramentalmente nell'eucaristia dove noi ci nutriamo di dio egli si fa pane di vita per noi un mistero grandissimo gesù ci ha detto prendete mangiate questo è il mio corpo chi mangia di me dimora in me e dio in lui e poi abbiamo l'immagine delle nozze che ci dicono la qualità della relazione che dio vuol vivere con noi non da padrone servi non da titolare dipendenti retribuiti neanche solo di amicizia ma vuol vivere con noi una relazione nuziale sì dio è amore si dona a noi vuole essere uno con noi egli si dona a noi e chiede di essere accolto e amato per trasformarci in lui è bello allora chiedersi ma noi viviamo così il nostro rapporto con lui un lasciarsi amare ricambiare all'amore viviamo con intensità l'incontro con lui nell'eucaristia o l'abbiamo svilita a un vuoto rito un precetto da adempiere per sentirsi a posto con dio e con la coscienza ma ecco il paradosso si può rifiutare tanta bellezza come accade agli invitati perché perché hanno altre priorità i loro campi le loro attività vengono prima sono più importanti dell'invito che resta loro rivolgendo e potremmo dire fondamentalmente quell'inganno la presunzione orgogliosa di bastare a se stessi l'essere totalmente ingolfati nelle attività nelle cose pur legittime che diventano l'assoluto dimenticandosi del bisogno e ancor più della bellezza della comunione con dio noi possiamo arrivare a snobbare dio preferendogli i doni che lui ci ha fatto noi possiamo arrivare a perdere di vista l'importanza dell'essere in comunione con lui il solo che ci salva dalla morte perché totalmente presi e impossessati dalle cose che pensiamo di possedere nella vita noi possiamo avere tante cose anche buone da poter fare ci sono sicuramente mille cose urgenti che ti piombano addosso all'improvviso ma poche sono quelle davvero essenziali e vanno custodite è importantissimo saper mettere le giuste priorità se si vuol crescere nel cammino di fede e maturare come persone anzitutto questo riguarda il rapporto con dio noi possiamo accampare mille scuse ma fatto sta idee che questi invitati stanno perdendo la comunione col signore dio desidera follemente stare con loro e loro gli preferiscono altro riecheggiano i tanti rifiuti che le persone a volte pongono quando le si invita ad esempio a messa ad incontrare il signore no ma padre sa domenica è l'unico giorno che ho per riposarmi durante la settimana non posso sistemare casa la domenica spesso vengono figli nipoti e pronipoti sa come stiamo a tavola solo quelle 6 7 ore per carità ci possono essere anche cose legittime utili da poter fare fatto sta idee che ci stanno facendo perdere ciò che è davvero essenziale questo può anche riguardare ad esempio la preghiera quante volte si sente dire ma padre io non ho tempo di pregare o tante cose da fare ma veramente non abbiamo dieci minuti al giorno per fermarci e stare con il buon dio o forse non dovremmo piuttosto chiederci non abbiamo tempo o non abbiamo voglia non abbiamo tempo o non abbiamo capito quanto sia importante lasciar che dio parli al nostro cuore non abbiamo tempo o non abbiamo abbastanza fede questo vale per tutti e specialmente per un sacerdote un religioso una religiosa se non custodisce la vita interiore la vita spirituale i propri tempi di unione con dio il tempo dell'accompagnamento spirituale della confessione rischierà di diventare un lavoratore scatenato un attivista sfegatato degenerando nell'essere poi un faccendiere del sacro un mestierante pagato o un pastore frustrato con tutto lo scandalo e l'infelicità che ne segue ma questo riguarda anche le relazioni con gli altri cioè ad esempio se io voglio essere un buon padre una buona madre non potrò fare tutte quelle cose che facevo quando ero single dovrò rimpostare il ritmo dovrò saper dedicare il giusto tempo alle persone che accanto e così al lavoro dovrò potare le cose inutili per portare avanti quelle davvero necessarie ecco abbiamo visto che il re dopo il rifiuto degli invitati non si rassegna e manda i servi a invitare tutti tantissime persone accolgono l'invito buoni cattivi ma che succede che a un certo punto il re si accorge che alla festa ad una persona manca l'abito nuziale dobbiamo sapere che nel mondo ebraico quando si veniva invitati ad un matrimonio era usanza regalare agli invitati una sorta di mantello che indicava appunto l'aver accolto l'invito qui abbiamo qualcuno che è entrato alla festa ma non ha quest'abito quindi qualcuno che non si è lasciato rivestire dell'abito nuziale cosa può indicare tutto questo può indicare il fatto che io posso anche esserci fisicamente ma non lasciarmi rivestire della vita nuova della grazia non lasciarmi rivestire per dire alla san paolo dei sentimenti di cristo ecco io posso impedire a dio di farmi il dono della sua grazia cioè non lasciarmi amare gratuitamente non lasciarmi perdonare da lui non lasciarmi nutrire da lui non lasciarmi parlare al cuore da lui e non lasciarmi guidare da lui a volte mi fanno sorridere quegli uomini specie nei paesini che vanno a messa si vede come senso del dovere come abitudine stanno in piedi al fondo della chiesa puntellando il muro e casomai la porta d'ingresso ma non li vedi dire una preghiera non li vedi inginocchiarsi non ricevono mai le eucaristiene si confessano però loro sono venuti ecco vivere anche rapporto con dio come fare tu delle cose per lui e non lasciarti invece amare gratuitamente scandalosamente per come dio vuol fare è un po come san pietro quando gesù voleva lavargli i piedi e pietro poneva il rifiuto e gesù gli disse pietro ma se non ti lasci lavare non avrai parte con me ecco se non ti lasci perdonare da me se non ti lasci amare per ciò che sei la tua vita non cambierà lui pensava di andare a dare la sua vita per gesù e di seguirlo fino alla morte ecco pietro resisteva a lasciarsi salvare fino in fondo da gesù lo capirà soltanto dopo dopo il rinnegamento dopo l'incontro con gesù risorto che lo confermerà nel suo ministero sì soltanto dopo pietro capirà che non era lui a dover dare la sua vita per gesù a dover sfornare prestazioni a gesù ma che doveva lasciarsi salvare da gesù ecco c'è il rischio non accogliere la grazia relazionarci con dio come delle persone che devono sfornare prestazioni ma non si lasciano cambiare il cuore non si lasciano amare non si lasciano salvare che il signore ci aiuti ad abbattere davvero il muro del nostro orgoglio a rivedere le nostre priorità e a lasciarci amare e rinnovare da lui nella gratuità e allora sì che la nostra vita cambierà e brillerà d'eternità che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti